Ciao a tutti, perdonate la qualità del video che sarà pessima, ma purtroppo non ho tempo neanche questa settimana, non fa niente, ci proviamo lo stesso, sto registrando con l'iPhone perciò capite che non è il massimo della qualità. Comunque oggi andrà in onda un altro video in onda, oggi sarà online un altro video della collaborazione con Adriana dove appunto parleremo dei progressi e delle problematiche dei nostri bambini circa una volta al mese perché abbiamo comunque esaurito tutti gli appuntamenti per la rubrica SOS mamma, però i nostri bimbi insomma ogni giorno hanno qualche scoperta, qualche novità, qualche cosa degna di poter essere condivisa con voi e quindi una volta al mese faremo questo video riassuntivo, tra virgolette. Questo mese Pietro ha messo quattro denti in poche settimane e senza problemi particolari, non so se è dovuto effettivamente alla collineadambra, a me piace pensare questo e quindi insomma ecco c'è un accenno alla funzione della, mamma mia sono struccata, no vabbè perdonate questa visione, fa niente, insomma mi piace pensare sia dovuto alla collineadambra, vedremo nei prossimi, con i prossimi denti. E da una settimana soffre di un raffreddore un po' fastidioso e ovviamente appena vede il fazzolettino per andare a pulirgli il naso sono urla, i lavaggi con la fisiologica peggio che andare di notte e quindi insomma i rimedi sono sempre gli stessi tranne che questa volta sto utilizzando una crema, sì so che mi muovo un po' ma sto utilizzando una crema al timo che gliela metto sotto i piedi sotto consiglio di Adriana se non ricordo male, me l'ha proprio consigliato lei, gliela metto sotto i piedi e sui polsi prima di andare a letto la sera e non gli è passato però sta un po' spurgando quindi è già 4-5 sere che gliele metto e spero insomma che piano piano se ne vada. Questo meteo sicuramente non ci sta aiutando perché un giorno hai manichette corte e il giorno dopo con la felpa quindi no c'è qualcosa che non va però insomma finché sono queste cose passeggere non c'è nulla di cui preoccuparsi. Cresce, non cammina ancora, si sta iniziando a mollicchiare un pochino ma non è per nulla sicuro e insomma aspettiamo i suoi tempi ovviamente e che dire ancora non ha ampliato il suo vocabolario dice solo mamma e tata e qualche gergo suo un po' così però niente di che è sempre più furbo, si prende un po' gioco di noi ma insomma penso sia la norma e quindi niente per questo mese ci sono appunto i denti, il raffreddore fastidioso e qualche inizio di camminare ma ancora non ci siamo del tutto insomma c'è ancora da lavorare. Niente io veramente sarà un video brevissimo ma sono le 10 di sera e vabbè insomma perdonatemi, comunque se non avete visto il video di ieri andatevelo a vedere è dedicato ad una collana, ad un gioiello particolare dedicato a noi mamme quindi andate a vederlo io vi mando un grosso bacio e ci vediamo se non sbaglio venerdì con il video in collaborazione invece con Mami Crea quindi insomma questa settimana in qualche modo riesco a tenervi più compagnia rispetto alla scorsa, vi mando veramente un bacione, saluto Adriana e il suo bimbo, ciao e andate a vedere anche il suo video, io vado a vederlo per vedere i suoi progressi e mi dispiace non potervi far vedere Pietro ma è a letto, cioè niente questo è l'unico momento ciao a tutti e al prossimo video